Una recente delibera della giunta comunale di Como, passata quasi sotto silenzio, stabilisce una piccola rivoluzione nei rapporti tra amministrazione pubblica e privati in tema di gestione delle pratiche. O meglio, per tutte quelle pratiche che senza colpi imputabili al singolo cittadino o all'impresa del caso abbiano accumulato ritardi giustificabili a causa dell'inerzia del direttore ed area, massimo vertice tecnico dell'amministrazione o del dirigente preposto. In sostanza, sulla base di leggi nazionali già emanate tra il 2009 e quest'anno, Palazzo Cernezzi ha messo un tocco personale nella lotta ai fannulloni seduti dietro le scrivanie municipali. O se proprio la definizione di fannulloni appare forte, si può parlare di quei direttori e dirigenti che per accertate responsabilità dirette risultino responsabili di un danno nei confronti dei privati. La pietra angolare per ogni tipo di provvedimento sarà il termine fissato dalle leggi nazionali o dai regolamenti comunali, entro il quale una determinata pratica deve essere chiusa. Che si tratti di costruire un pollaio, un complesso residenziale, piazzare un cartello o altro ancora non farà differenza. Il dirigente a cui spetta la sovrintendenza della specifica pratica dovrà tassativamente dare un risponso al cittadino o all'imprenditore entro una data prestabilita. Cosa che di frequente non accade, così ecco che il dirigente risponderà in prima persona. In questo caso la giunta ha deciso che d'ufficio o su richiesta del proponente della pratica il vertice in questione possa essere immediatamente tolto da quel faldone e sostituito con un'altra figura di riferimento che assicuri il buon esito finale della pratica. La novità tra l'altro è che il privato potrà rivolgersi direttamente e senza intermediari al segretario generale di Palazzo Cernezzi, via mail, telefono o recandosi in ufficio. Una volta puniti ed esautorati, direttori d'area e dirigenti potranno persino essere messi in mora. E non è finita, in caso di ritardi accertati il privato potrà anche ottenere un indennizio di 30 euro per ogni giorno di sforamento dei termini. E se anche questo subisse ritardi, per il comune si aprirebbero le porte del Tribunale Civile. Grazie.